Un battibecco tra studenti che sfocia in una vera e propria rissa. Gruppi etnici opposti che dopo la lite si danno appuntamento per l'indomani e che fanno intervenire anche i fratelli maggiori. Una brutta storia che si chiude solo con l'intervento delle patuglie dei carabinieri e delle ambulanze che hanno portato in ospedale i feriti, per fortuna tutti lievi. Stamattina l'epilogo già di un episodio avvenuto nella giornata di ieri quando già avevamo fatto un intervento all'interno della scuola. Il far west cittadino scatta poco prima delle otto nella strada interna che porta all'ingresso dell'istituto professionale Moretto di via Pollonio. Da un lato un gruppetto di cinque, forse sei ragazzi albanesi, studenti della scuola. Dall'altra parte ganesi, anche loro del Moretto. Dalle parole ai fatti in un attimo e la rissa tra calci e pugni spintoni è furibonda. Uno degli insegnanti della scuola, che vede quello che sta accadendo, prova ad intervenire per dividere i ragazzi ma finisce a terra e sarà soccorso dal 118. Alla fine sul campo restano indiversi, due studenti sono trasferiti al civile, altri due medicati sul posto. Una esplosione di violenza a scuola che preoccupa il preside. Le tensioni spesso ci sono, però fino adesso sono sempre state contenute sotto controllo. Ieri c'è stato un episodio di una discussione che ha generato l'intervento dei carabinieri. Stamattina il seguito. Secondo chi ha assistito alla scena, quello di stamani sarebbe stato un regolamento di conti. La lite, futile scoppiata ieri, ha lasciato strascichi. Entrambi i contendenti hanno tenuto fede alle promesse di tornare il giorno dopo con le spalle coperte. E la rissa è stata inevitabile, tra animi già surriscaldati. Ai militari della compagnia cittadina e al Maggiore Damato, che stanno parlando con ragazzi ed insegnanti, il compito di dipanare la matassa. Al momento stiamo vagliando la posizione di sei persone coinvolte, quattro ragazzi di etnia albanese e due di etnia nordafricana. Dei quattro albanesi uno è minorenne. Al momento non risultano tensioni etniche. Pare più una vicenda legata a dei futili motivi tra ragazzi e adolescenti.